Gemellaggio tra i comuni di Reggiolo ed Argenta nel Ferrarese. Il patto di amicizia e di solidarietà è stato ufficializzato con scambio di doni tra le amministrazioni comunali e le leghe dei pensionati SPCGL il 15 novembre ad Argenta. Argenta è un comune dal territorio molto esteso, conta ben 13 frazioni e 22.500 abitanti. È un territorio di bonifica che si estende vicino alle valli di Comacchio. Una cinquantina di pensionati del sindacato CGL di Reggiolo ha organizzato la trasferta nel territorio ferrarese a bordo di un pullman. È un modo per fare politica direttamente sul territorio e poi direi che l'impatto è stato solo positivo, ci hanno preparato una giornata bellissima. Qui siamo in una zona che ha molte caratteristiche di vicinanza anche della nostra zona di Reggiolo e qui mi pare molto interessante fare questa esperienza. Nel dare il benvenuto alla delegazione il sindaco di Argenta ha espresso piena solidarietà agli abitanti di Reggiolo colpite dal terremoto nel maggio del 2012 e ha garantito il sostegno di tutta la sua comunità. Quando il sindacato ci ha fatto la proposta, ci ha informato del fatto di questo gemellaggio la risposta della giunta è stata immediata. L'immediatezza di quella risposta nasconde un sentimento di profonda vicinanza nei confronti del comune di Reggiolo ma anche un senso di ospitalità, di solidarietà nei confronti di chi ha difficoltà, nei confronti di chi ha dei momenti difficili che fa parte delle fondamenta della cultura argentana. Gli amministratori e rappresentanti del sindacato hanno sottolineato i tanti punti in comune tra le due cittadine che si sono sviluppate su territori di bonifica e sono cresciute con profondi radici nella cooperazione. È un gemellaggio a cui noi teniamo perché evidentemente può permetterci di allacciare dei rapporti con una comunità che per certi versi assomiglia a quella di Reggiolo. Ci sono molti punti in comune tra Reggiolo ed Argentano, non solo le origini estensi delle province di Ferrara, Modena e Reggio, ma proprio le caratteristiche di dinamicità di questo territorio e il fatto che comunque sono stati colpiti le province dal terremoto insieme. Reggiolo e Reggenta punti in comune sono per esempio la cooperazione che è stata la base del movimento di sviluppo anche se oggi, come oggi sia Reggiolo sia anche Ferrara, la cooperazione vive dei momenti di difficoltà. Non dimentichiamo che alcuni aspetti importanti della storia della bassa reggiana sono legate proprio alla città di Argenta e all'architetto Gian Battista Leotti che aveva provveduto nel Cinquecento a progettare l'opera di Bonifica, Bonifica Bentivoglio. Verremo a Reggiolo a visitare il vostro territorio che è stato colpito dal terremoto per consolidare quindi questa amicizia che durerà nel tempo. Ad Argenta la delegazione dei pensionati di Reggiolo ha visitato il Museo della Bonifica, quello delle valli e la bellissima pieve di San Giorgio fondata nel 569 d.C.